Gli investimenti scendono ed è una delle componenti Questo è palese manifesto che gli investimenti scendono e poi bisogna presentare una lista Mentre lo scorso anno aspettavano il piano Juncker perché ogni anno c'è un piano Juncker pronto a fallire sulla rampa di lancio per cui va bene O però Oscar un'altra cosa della settimana il bollettino mensile dell'ABI con il più 92% di nuovi mutui erogati diciamo gennaio settembre Però è comparso anche nel lancio di agenzia di stampa a differenza dei mesi scorsi evidentemente all'ABI hanno sviluppato una certa sensibilità O hanno sentito determinate critiche perché alla fine c'è un limite a tutto Ebbene la variazione dello stock dei mutui gennaio settembre 2015 su gennaio settembre 2014 è praticamente invariata Cioè i nuovi mutui che sono stati concessi nei primi nove mesi del 2015 non fanno altro che riportare lo stock dei mutui in essere nei bilanci delle banche a dove erano un anno fa C'è una variazione che è addirittura 0,04% Quindi siamo tornati al via, restiamo nel regno della derivata seconda cioè non un aumento in valore assoluto ma un aumento della variazione Va bene, piuttosto che niente è meglio piuttosto Però il nostro compito cari ascoltatori quando ci avete sentito inveire su quel dato che tutti i giornali italiani hanno riportato nei titoli mutui più 92% Che evidentemente non poteva avere alcun riscontro reale nell'andamento delle cifre dei bilanci bancari, dei bilanci delle famiglie e così via Alla fine serviamo a qualche cosa perché si scopre che non è il più 92% ma è un meno 0,04% Capite? Un paese che va avanti con un'informazione sui dati di questo tipo è drogato, è drogato, c'è troppa propaganda Non c'è fat checking perché se tu vai a riportare più 92% e non ti balza alla testa in maniera automatica di dire sì ma in soldoni Quanto è più 92% e nessuno si pone questa domanda o per colpa o per dolo o per ignoranza È chiaro che si pone un problema di informazione Esattamente E comunque Oscar se ti ricordi noi negli ultimi mesi abbiamo seppellito lo spin della variazione dei consumi elettrici Che il governo molti mesi addietro aveva lanciato con grande fanfara Poi alla fine anche lo stesso amministratore delegato di Terna ha ridimensionato L'ultimo dato è una variazione negativa molto robusta e non si spiega anche considerando il numero di giorni lavorati E le variazioni termiche rispetto alla normale stagionale è una flessione importante Io non sono qui a enfatizzare nulla Però dico che di volta in volta se noi lanciamo lo strumento magico che ci serve per capire dove diavolo siamo Come congiuntura poi questo strumento viene impallinato o dal fact checking o dalla realtà E il tempo vola quando ci si diverte e posso dire solo questo Poi naturalmente qui la gente continuerà a dire che siamo gufi, invidiosi, che siamo amici di Berlusconi Tutto quello che volete Ma noi facciamo puramente uno stupidissimo fact checking